ciao a tutti anime bentornati tutti quanti amici e amiche di quinta dimensione letture allora do un saluto e un caloroso appunto abbraccio a tutti quanti anche se virtuale vi ringrazio sempre di seguirmi con così tanto affetto e vi ringrazio veramente tanto ricambio comunque il vostro affetto sappiatelo allora facciamo un altro importante lavoro di crescita personale andiamo a muovere le energie sempre di luce sempre positive dell'universo e dagli esseri di luce per far accadere un miracolo con questo nuovo codice sacro che è il 777 andremo proprio a chiamare a noi una svolta un qualcosa di positivo veramente cioè cerchiamo proprio di avere una bella bella botta proprio di fortuna e di proprio miracolo si chiama proprio un miracolo accadere un miracolo allora chiaramente l'ambito è qualsiasi potrebbe essere un miracolo per il lavoro un miracolo per la salute un miracolo per la propria vita in generale per l'amore insomma per tante questioni la casa la famiglia per i figli insomma provate questo codice sacro può essere impostato anche diciamo per un'altra persona rarissimo caso perché di solito i codici sacri vanno fatti per se stessi ma come spesso mi chiedete e vi rispondo sia pubblicamente sotto i commenti dei vari video ma anche in privato c'è questa necessità e me lo chiedete perché a volte serve più un'altra persona che voi sapete piuttosto che a voi stessi e questo lo capisco ma il codice sacro è molto importante fondamentale che proprio perché l'energia del quinto chakra che vostro va proprio a muovere la vostra energia il vostro campo aurico che è quello invisibile attorno al vostro corpo composto di tanti altri corpi allora possiamo impostare questo codice intanto per noi stessi sarebbe proprio la cosa migliore se vi serve per qualcuno per far accadere un miracolo per tentare di migliorare la vita di qualcuno impostate proprio il fatto che io ok io voglio che che ne so il lavoro di nome e cognome possa avere una soluzione che accade un miracolo bellissimo per la vita di per il suo più alto bene quest'ultima frase per il suo più alto bene con la a maiuscola è fondamentale perché sapete bene cos'è il libero arbitro non possiamo andare ad interferire in nessun modo ok qui è un canale questo che spiega molto bene i concetti di energie ma partendo proprio dai concetti fondamentali questo è uno di quelli non si può andare ad invadere forzatamente il desiderio e la vita di qualcun altro quindi lo chiediamo per il suo più alto bene e quindi sappiamo che potrebbe anche non realizzarsi va bene perché perché magari c'è un disegno e un piano diverso per quella persona e non possiamo fare nulla non possiamo forzare nulla quindi magari una cosa momentanea di questo momento se loro si rifà magari fra un anno proviamo a vedere se è sempre così ancora la strada di quella persona ma vale anche per noi però inutile forzare ok inutile forzare perché tanto non accade inutile sulla terra non possiamo avere questo potere e non ci è concesso neanche allora un'altra cosa i codici sacri vanno recitati per 45 volte si inizia dalla prima e si termina a 45 va bene la 45esima compresa se vi sbagliate dovete ricominciare dovete ricominciare questo è chiaro e se vi scordate un giorno dovete ricominciare da capo perché perché c'è una base di partenza che di un minimo di 21 giorni che serve proprio a livello energetico inconscio per penetrare le nostre barriere quindi il consiglio che vi do è almeno 21 giorni ma la cosa migliore in assoluto migliore è farlo tutti i giorni quindi 45 volte ogni giorno finché non vedete lo sblocco la realizzazione di qualcosa è molto bello questo codice sacro che porta un numero fantastico che è il 7 e 7 per ben tre volte quindi fatelo con fiducia con fede e convinzione ok mi raccomando mi raccomando primi per voi stessi poi se vi serve per qualcuno vi ho spiegato poco fa come si deve fare allora poi mettiamo anche un consiglio un messaggio che deve arrivare proprio adesso questi sono i miei messaggi divini oracolo andate a vedere nella descrizione del video tutte le spiegazioni su come poterli ordinare che abbiamo un po di pietre che ci fanno compagnia per ogni piccola genesina come vedete associate ai 7 chakra vi metterò proprio un messaggio una carta per ogni genesa quindi vedi già qual è magari la genesa che ti piace di più che ti ispira lasciati trasportare anche dal colore perché il colore che ti trasporta è il colore magari che proprio hai bisogno che è il livello proprio cromatico di cromoterapia magari ti attira tanto lasciamo stare il colore preferito sì va bene lo stesso ma cerca proprio la vibrazione cromatica che ti attira di più oggi perché magari domani ti attira un'altra vibrazione cromatica quindi il momento perfetto in cui apri questo video non è casuale qui c'è proprio una sincronicità quindi cerca di concentrarti in questo momento va bene allora che altro mettiamo anche una parola magica che serve proprio per avere una vita meravigliosa va bene una vita splendida per quanto è possibile proviamoci le parole magiche vanno recitate dalle 3 alle 5 volte al giorno in tre momenti diversi della giornata va bene possono essere inserite anche nella genesa appunto quelle più grandi la genesa come questa ma più grande più o meno a metà altezza sostenuto da un bicchierino a testa in giù e che cada proprio a metà perché lì c'è la più alta concentrazione di energia allora partiamo come ogni cosa per questo tipo di lavori si inizia con tre bei respiri profondi inspiriamo dal naso espiriamo dalla bocca li facciamo insieme va bene poi se volete fate anche il codice sacro con me se lo volete fare questo tipo di lavoro e venire qua tutti i giorni su questo video fatelo non c'è problema bene se vi risuona meglio se vi piace di più perché tanti mi dicono a me piace farlo insieme a te va benissimo fatelo insieme a me sopra la mia voce se no vi adattate voi non c'è nessun problema trovate voi il modo che vi fa sentire meglio per farlo non è obbligatorio venire qua ogni volta ad ascoltarlo fate voi se vi trovate meglio magari voi a sbarrare i numeretti con il fogliettino insomma vedete voi va bene potete anche scrivere questo codice 777 ma anche gli altri che ci sono in questo canale anche che ne so su un bigliettino magari un post it che ogni tanto vi ci cade l'occhio e vi ricordate di fare no questo codice magari perché tante volte ci si dimentica e lo capisco questa cosa sappiate che è molto importante la fede e la convinzione noi con questi codici sacri andiamo a muovere proprio le vibrazioni va bene il codice sacro muove delle vibrazioni e poi si traducono comunque in una manifestazione perché perché l'energia di chi lo fa va proprio a fondersi con quella universale va bene degli esseri di luce è proprio un codice matematico ma anche ignoto questo di come funziona questa cosa però la manifestazione ci sarà quindi andiamo ad agganciare la nostra energia la agganciamo proprio con quelle universali allora non c'è bisogno di tanta introduzione per questo codice facciamo tre respiri profondi poi diciamo una frase che può essere appunto adattabile ognuno può anche trovare la sua particolare frase che piace di più quindi non c'è problema allora facciamo così partiamo tre respiri profondi li facciamo insieme attivo qui e ora il codice sacro 777 per ricevere un miracolo così sia così è così è così è fatto grazie 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 777 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 quindi avendo fatto adesso il codice mettiamo una parola magica ma la potete fare anche in un momento diverso va bene non dopo il codice o prima il codice fatela come volete allora questa è una formula delle parole magiche sempre di cristiano tenka che è proprio propiziatrice quindi va proprio a propiziare a chiedere proprio per eccellenza ok una formula proprio propiziatrice per eccellenza che può essere usata proprio tante volte nella vita e nei momenti in cui vediamo che abbiamo più bisogno proprio di aiuto ed è questa qua ed è proprio per avere una vita meravigliosa quindi lo diciamo mirifica vita austus dalle 3 alle 5 volte magari 3 5 volte il mattino 3 5 volte il pomeriggio 3 5 volte la sera oppure lo possiamo mettere in genesa un'ora al giorno va bene se per noi sul lato quadrato se si chiede per altri mettersi in terza persona tipo io nome cognome e nome cognome e date di nascita ovviamente mirifica vita austus insomma fate voi inventatevi anche un po' le cose perché questa paura di sbagliare in realtà non è una buona emanazione energetica provate tutt'al più non si verifica la cosa non è che succede niente questi sono tutti i lavori con le geometrie sacre che sono già sacre sono già perfette non c'è bisogno non c'è sbaglio non c'è energia negativa quindi comunque male che va non si avvera capito non è il problema dell'errore capisco che è importante ma comunque cerchiamo di andare oltre rilassiamoci e non abbiamo non stiamo con queste paure allora andiamo se hai scelto un colore delle nostre genesi dei sette chakra parto con il colore 1 quindi per chi ha scelto la rossa partiamo dal primo chakra genesa rossa qual è il messaggio qua per la genesa rossa fai esercizio fisico 19 19 esci all'aperto e respira qua c'è bisogno di uscire genesa rossa eh mi raccomando muoviti perché aumenta anche l'energia qua hai bisogno probabilmente chi ha scelto la genesa rossa forse c'è un po' di pesantezza c'è un po' di apatia c'è un po' di voglia di fare niente e quindi ti chiede proprio questo va bene perché un esercizio fisico intanto per il corpo mensana incorpore sano significa molto per chi ha intenzione di aumentare le proprie energie sicuramente una buona alimentazione e una corretta attività fisica anche moderata per carità già anche una camminata fa tanto no? per chi comunque non è abituato chi non piace eccetera perché non è che a tutti piace fare insomma le palestre le cose quindi non c'è problema per quello però è richiesto comunque un uscire un andare proprio all'aperto e respirare quindi qui devi fare un bel respiro proprio mentre sei in natura va bene o vicino all'acqua anche quindi questo ti è proprio richiesto mi raccomando genesa rossa falla questa cosa perché è proprio diretta eh andiamo avanti facciamo la seconda genesa secondo chakra vediamo arancione per chi ha scelto la genesa 2 arancione qual è il messaggio per la genesa 2 arancione vediamo San Germain io sono luce io sono amore io sono verità io sono numero 7 il maestro San Germain ti invita a recitare questo potente mantra guarda caso oggi avevamo tre volte il numero 7 su questo codice sacro bellissimo per ricevere il miracolo e c'è venuto San Germain quindi Genesa 2 arancione recita questo mantra perché San Germain è molto potente uno dei maestro ascesi che si occupa proprio anche dell'ascensione e di questa nuova era dell'acquaro età dell'oro chiamata anche in questo modo è proprio uno di quelli che sta lavorando tantissimo con il collettivo perciò ti è uscito proprio diretto diretto lui magari qualcuno qua è un salutino di San Germain a chi sta facendo io sono eh che è proprio una conferma che stai facendo bene e sei ascoltata sei ascoltato qua c'è anche questo piccolo mantra che puoi continuare comunque a recitare sempre per la tua crescita personale piccolo veloce ma potentissimo io sono luce io sono amore io sono verità io sono anche queste sono delle parole magiche non sono di Tenka ma sono parole magiche ve lo posso assicurare perché muovono una vibrazione molto molto forte va bene molto bello il messaggio del nostro maestro asceso per la Genesa arancione proseguiamo con la terza Genesa terzo chakra colore giallo plesso solare vediamo un po qua per chi ha scelto il giallo il colore giallo chi è stato attirato dal giallo qual è il messaggio cambiamenti nella vita materiale 665 655 sono numeri che potrebbero dirti qualcosa o essere particolarmente fortunati cambio di casa o automobile quindi qua forse con il miracolo di qualcuno era anche se riusciva magari a cambiare la casa a cambiare l'auto qua è un sì qua è un sì che sia poi il codice sacro o che c'era comunque già in arrivo per te ma sicuramente il codice sacro ti accelera e ti aiuta alla manifestazione quindi comunque continua a recitare con fede questo codice sacro 777 ma anche gli altri che stai facendo lo ripeto comunque sia i codici sacri possono essere recitati diversi al giorno però non li mischiate ne iniziate uno lo fate 45 volte poi ne iniziate un altro però ne potete fare diversi quindi se volete aggiungete anche questo 777 quindi qua Genesa 3 color giallo questo era il messaggio per te quindi cambio di casa o di automobile va bene ottimo per chi comunque aveva intenzioni di questo tipo proseguiamo terzo messaggio per la terza Genesa verde terzo chakra quarto chakra quarto messaggio quarto chakra quarto messaggio colore verde cosa c'è da dire sta ricevendo indicazioni su come procedere attraverso pensieri sensazioni visioni 10 10 0 1 0 1 che è anche uno dei codici pleiadiani gli esseri di luce sono al tuo fianco benissimo perfetto quindi qua ci sono come dire dei messaggi per te qua ci sono proprio delle manifestazioni dei pensieri delle sensazioni e visioni ma sono indicazioni che vengono dagli esseri di luce dalla tua famiglia galattica sono al tuo fianco ti dicono qua quindi presta attenzione perché ci sono delle risposte per chi ha scelto la Genesa verde che arrivano attraverso pensieri sensazioni visioni quindi fateci caso perché stanno dicendo proprio qua questo messaggio molto diretto anche questo è ti sto dando delle indicazioni ti stanno dicendo quindi vedi se hai sognato qualcosa di particolare se hai delle visioni di qualcosa di particolare sensazioni che cosa insomma quelle cose tra virgolette a caso che ti capitano va bene quindi qua proprio c'è un'attenzione per te è quarta Genesina verde va bene questo era il messaggio facci caso è perché qua proprio ti è venuto dire questo messaggio allora quinta Genesa quinto chakra colore blu andiamo avanti perché ha scelto il blu Genesa numero 5 in questo momento la connessione con il regno angelico e le tue guide è molto forte ottimo 13 31 44 ti porterò gioia e tranquillità qui abbiamo gente connessa che ha scelto la blu sia con il regno angelico ma anche le guide perciò questa gioia e tranquillità per te è in arrivo ti sta dicendo qua quindi non preoccuparti in questo momento che ascolti chiaramente questi tipi di video sono sempre validi è da quando li aprite va sempre bene tra l'altro vedete questa la tovaglietta ascensione che è stata presa proprio da questi oracoli canalizzati da me e questa era proprio una delle immagini che ci richiamavano questo tipo di questa tovaglietta allora mi raccomando perché qua la connessione ce l'hai guide va bene il regno angelico ma oserei dire anche famiglie stellari comunque sia tutto quello che è della quinta dimensione in su va bene perciò guarda che se hai connessione ti possono arrivare tante indicazioni perciò se magari erano i tuoi dubbi se in questo momento riuscivi a connetterti magari o meditavi o chiedivi delle risposte dei messaggi no questa è una risposta sappi che c'è la connessione se avevi dubbi perché a volte capisco che è difficile no intercettare capire se siamo connessi o se ce lo stiamo solo immaginando invece qua ti dice sì in realtà la connessione c'è quindi continua su questa strada qualsiasi sia la tua ok cioè nel senso come ci arrivi a questa connessione con le tue tecniche le tue cose utilizzale perché funzionano va bene genesina blu grazie andiamo avanti con la viola sesto chakra colore viola perché ha scelto genesa numero 6 viola periodo di transizione lascia andare il passato e tutto quello che non ti serve più 225 vai avanti con coraggio ti dicono qua bene qui stiamo in un cambiamento quindi va bene se eri un posti caostico a lasciare andare lascia andare che dice qua quello che non ti serve più ti trattiene solo ti mantiene ancora nella vecchia energia cosa che non ci serve proprio ci serve di lasciare andare il passato qua magari chi ha scelto il viola c'è un po' di difficoltà a staccarsi completamente oppure magari ci si tra virgolette convince che no ci ce l'ho fatta invece magari poi accade una cosa e ricadiamo un po' no andiamo giù ci rattristiamo perché ma come ci ho fatto tutto questo e ancora mi trovo così pensavo di aver superato questo e mi trovo così molto spesso questa cosa potrebbe accadere ma non ti preoccupare lascia andare come dice qua lascia andare perché se ti capita vuol dire che ti ci vuole magari un po' di più non è un problema ma il risultato non è detto che non lo raggiungi anzi l'importante è la forza ti dice qua vai avanti con coraggio infatti quindi continua notate sempre le cose come vengono con i colori no viola qui viola là quindi quello che non ti serve più devi cercare proprio di buttarlo via ti dice qua lascia andare il passato perché se vuoi un'evoluzione se vuoi un cambiamento ma rimaniamo attaccati quindi non andiamo da nessuna parte è dura nessuno mai ha detto che è facile però è un lavoro questo da fare va bene questo era il messaggio per te genesina numero 6 andiamo con la 7 e con il color argento andiamo vediamo un po' qua perché ha scelto genesa numero 7 argento qual è il messaggio per l'agenza numero 7 argento sei sulla strada giusta e tutto è nel perfetto ordine divino 500 550 manifesterai abbondanza oh qua abbiamo pure l'abbondanza va bene quindi se il codice 777 lo stavi facendo anche per l'abbondanza bene perché la manifesterai ci dice qua attenzione manifesterai quindi vuol dire che sta arrivando sei sulla giusta strada tutto è nel perfetto ordine divino anche se non ti sembra perché sulla terra è difficile questa cosa qua la manifestazione è molto lenta per noi quindi molti mollano perché perché non hanno imparato l'arte della pazienza oppure perché non hanno abbastanza fede invece noi dobbiamo essere così così e crederci 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 e qua è un messaggio per te di conferma che sei sulla strada giusta tutto nel perfetto ordine divino quindi non ti devi preoccupare di nulla va bene allora questo era proprio il messaggio per te questi sono i miei oracoli divini leggete anche nella descrizione se vi interessa e questa è la tovaglietta dell'ascensione che dirvi spero che vi troviate bene poi anche con questi codici perché i risultati li abbiamo visti li state vedendo anche voi e che sono veramente magnifici fantastici andatevi vedere per chi è da poco che mi segue o la prima volta la playlist del decreti decreti codici sacri eccetera eccetera e si chiama così ci sono proprio tutti quanti messi là quindi sono molto importanti questi tipi di lavori perché chi ha veramente intenzione di avere questa crescita deve per forza passare dal lavoro personale non c'è altra strada non c'è magia che funziona se non quella che viene dall'intenzione interna e dall'innalzamento l'elevazione personale quella è la strada altre non ce ne sono e chi sceglie le scorciatoie semplici poi si ritrova comunque da punto a capo e per scorciatoie semplici intendo quelli che fanno le operazioni di magie operazioni di non so oscure legami cose forzate tutte queste cose qua vi consiglio caldamente vivamente di lasciar perdere e poi la terra comunque sia adesso ascendendo il nostro bellissimo pianeta non sarà più tollerato questo tipo di cose ma vedrete pure che non funzionerà più vedrete vedrete perché comunque le oscurità sono abbattute sapete qual è la copertina da sempre di questo canale che dice la luce ha vinto perché se c'è scritto c'è un motivo anche se ancora ripeto magari non si vede ma c'è questo motivo va bene io vi ringrazio tutti di avermi seguito e vi mando veramente un grandissimo abbraccio fate i codici sacri credeteci e non mollate finché non vedete la manifestazione va bene per quanto mi riguarda per oggi con questo codice sacro è tutto vi auguro tantissime cose belle vi mando tantissima luce vi ringrazio sempre perché siete veramente bellissimi e vi ringrazio tanto ancora per il vostro affetto vi aspetto presto qui su quinta dimensione letture per un nuovo video interattivo con me ciao a tutti e grazie